La forza vibrante I fratelli dello spazio, voci dall'infinito, attraverso Wanda, Albano, 30 giugno 1998, a cura di Vubi, civiltà e nu. Se tu e gli altri fratelli poteste sentire la forza vibrante che si sprigiona dal cosmo, rimarreste annientati. Quanta potenza nella sua luce, quanto vigore. E' forza motrice del movimento cosmico, è un continuo esplodere di potenza che sostiene tutta la creazione. Forza di gravità, direste voi. Ma questa forza sostenitrice è una continua esplosione. Ne avete un esempio nel microcosmo. Il piccolo sole che illumina e riscalda il vostro sistema. Ingigantitelo fin dove arriva la vostra mente e otterrete il fulcro centrale. Cosa paradossale per voi, che tutto sorregge, fa pulsare e vivere l'intera creazione. E' forza cosmica e potenza, ma è ancora amore, dolcezza, comprensione e giustizia. Tutti coordinati in perfetta armonia. Continua.